Dopo la pessima prestazione vista mercoledì contro il Valle d'Aosta, l'Alessandria riesce a peggiorare ulteriormente le cose e rimedia un'autentica figuraccia tra le muramiche venendo sconfitta per 2-0 dalla Giacomense. Una prestazione nella quale è mancato tutto la squadra grigia, gioco, corsa, motivazioni, lucidità. La panchina di Mr. Cusatis adesso in forte dubbio e potrebbero arrivare in tal senso alcune novità già nella giornata di oggi dopo l'incontro tra il presidente di Masi e il direttore sportivo Menegatti. Una decisione per il presente e per il futuro, perché se è vero che, numeri alla mano, l'obiettivo play-off è ancora raggiungibile con la sesta posizione e distante 5 punti attualmente occupata da un Castiglione in crisi, è anche vero che, francamente, la squadra vista nell'ultimo mese non pare assolutamente in grado di raggiungere e vincere gli spareggi promozione. I numeri parlano chiaro, zero gol nelle ultime quattro partite, un punto conquistato, solo il Milazzo, ultimo in classifica, ha fatto peggio. Nella giornata, che complice anche il maltempo, fa registrare record negativo di spettatori al Moccagatta, l'Alessandria controlla il gioco nei primi minuti, ma senza rendersi mai pericolosa con gli avversari che dal canto loro affrontano la gara con l'atteggiamento già visto molte volte in campionato e che spesso è riuscito a mettere in difficoltà la compagine di Cusatis. Difesa attenta e ordinata, con ripartenza in contropiede. Il primo tiro in porta arriva al 34esimo, con Personè che si gira in aria ma conclude debolmente. Al 39esimo si fanno vedere Grigi, bel lancio di Degano per Rossi, l'attaccante protegge palla e serve la corrente Roselli che però calcia male da buona posizione. Al 42esimo Degano su punizione, botta e palla lato non di molto. Nella ripresa altro copione già visto, con l'Alessandria che abbassa ulteriormente i ritmi e dopo 13 minuti rimane in 10. Mora viene ammonito per due volte in una manciata di minuti, per due interventi evitabili che costano al centrocampista Grigio l'espulsione. Tre minuti dopo arriva il vantaggio ospite ed ecco un altro film già visto. Il gol di Personè è la fotocopia di quello del raddoppio di Virdis nella gara contro il Savona. Landi ha tutto il tempo di alzare la testa e servire l'attaccante ospite che, dimenticato dalla difesa grigia, non ha difficoltà ad insaccare di testa. Al 40esimo, dopo il raddoppio della Giacomense con Serlini, il poco pubblico presente abbandona gli spalti, contestando squadra e allenatore, con l'invito al presidente Di Masi ad agire fin da subito per invertire la rotta che sta trascinando l'Alessandria verso un campionato vissuto nell'anonimato di metà classifica.